Ciao a tutte ragazze e bentornati con un nuovo video. Oggi sono davvero super 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 felice perché questa è la mia prima collaborazione su YouTube. Allora, oggi è una collaborazione con il sito Sorgente Natura. È un sito molto ricco di cose, infatti vende prodotti tutti biologici e va dai gioielli della cura del corpo, i trucchi, a cose della casa, abbigliamento, cose per gli animali, addirittura cose da mangiare, bevande, integratori alimentari, tutto biologico e naturale. Hanno sede a Bellaria, che sta a Rimini e sono aperte 24 ore su 24 su appunto il sito e la spedizione è anche molto veloce, infatti a me il pacco è arrivato in un giorno, l'hanno spedito ieri mattina e è arrivato stamattina verso le 10, così. E potete pagare anche in tutti i modi, ci sono molti modi di pagamento, tra cui il contrassegno, che è gratuito. Ci sono appunto la spedizione, c'è la spedizione gratuita se fate acquisti superiori a 39 euro. Comunque per tutte le informazioni vi lascio il link del sito qui sotto nell'info box e sono anche molto veloce a rispondere all'email, devo dire la verità. Il pacco è questo appunto, con scritto l'azienda. Mi è arrivato appunto in un giorno, sono stati velocissimi, praticamente ci siamo messi d'accordo, loro mi hanno fatto scegliere dei prodotti, un prodotto, tra appunto tre scelte. Io inizialmente avevo scelto le candele, però non erano più disponibili e quindi ho scelto un'altra cosa, che ora vedrete. Appunto mi è arrivato stamattina in 24 ore proprio, perché mi è arrivata l'email che il pacco era in viaggio ieri mattina e stamattina mi ha chiamato il corriere, sono scesa e l'ho preso. Appunto il corriere è il GLS, se lo volete sapere. Il pacco appunto è così e con tutto il marchio del sito. Ora, cioè io non l'ho proprio aperto, è pomeriggio, infatti non vedevo l'ora di fare questo video. Lo apro con voi. Ah, se vi piace questa nuova postazione, ditemelo nei commenti, ho attaccato i segnali là dietro. Ce ne sono altri, aiuto. Allora, appunto, il pacco è questo, dentro c'è la ricevuta. Vedo dal catalogo, appunto, i prezzi, perché sulla ricevuta non ci sono. Allora, l'imballo è molto fatto bene, anche perché ci sta molta carta e quindi anche se va a sbattere i prodotti dentro non si rompono. Qui c'è tantissima carta. E dentro c'era questa, che appunto è il prodotto che io avevo scelto. Mi hanno proposto di scegliere, appunto, tra le candele e delle cose d'incenso. Io ho scelto le candele, però non erano più disponibili. E quindi mi hanno fatto scegliere tra l'incenso, però a me non piace tanto, e appunto cose da mangiare. Io ho scelto la barretta di cioccolato, appunto, al gusto di cioccolato e canapa. Cibo crudo, qui, appunto, questo è del sito dell'azienda Cibo Crudo, perché appunto, Sorgente Natura è un rivenditore. Tutto made in Italy è biologico, c'è scritto appunto qui. Questa è la barretta. Cioccolato e canapa, appunto, è il cioccolato con i semi di canapa. Beh, devo dire anche che è gommosa. Farò un video a parte sull'assaggio. E poi ci sono tantissimi, ma tantissimi campioncini di varie creme, appunto, perché loro rivendono creme. Addirittura, se non sbaglio, della Biocosmetics. Qui c'è il catalogo, Sorgente Natura. Se riesco a trovare la barretta, vi dico quanto costa. Appunto, qui c'è scritto spese di spedizione con il corriere espresso. E se pagate più di 39 euro, la spedizione è gratuita. 5,30 euro per ordini inferiori a 39. Potete pagare con il contrassegno, carta di credito, Paypal. E per il contrassegno non verrà applicata un'altra cifra da pagare, perché è gratis il contrassegno. E appunto, il catalogo non essendo ogni volta aggiornato, può contenere cose che sul sito magari non saranno disponibili, oppure i prezzi saranno cambiati, c'è il punto scritto. Se riesco a trovare la tavoletta, vi dico quanto costa. E appunto, come un giornale del supermercato, questo è la parte che interessa i cibi. Qui c'è addirittura il panettone e i pandori biologici. Però non trovo la barretta. Vi lascio il prezzo sotto nell'info box. E appunto, qui ci sono vari trucchi. Crema con tornocchi, matita, insalata, unguenti, creme, argilla. E il pacco è vuoto. C'era molta carta davvero e così, appunto, è molto sicuro. Ci sono un sacco di campioncini. Ve li faccio vedere velocemente. E per la cioccolata farò un video assaggio a parte. Questa è della Wellhead. Una crema. Trattamento giorno rassodante al melograno. Crema viso. Della viso di... non so. Poi ci sono la saponaria. Shampoo biologico ai semi di lino. Lino. Salvia e limone. Shampoo. Verde sativa. Insomma, ci sono molte marche, appunto, perché essendo un rivenditore, ha molte marche. Qui ci sono appunto vari campioncini di cose biologiche, appunto, rigeneranti viso, creme corpo, ci sono shampi. Questo c'è addirittura uno shampoo per i neonati biologico. E poi gli occhi secchi e irritati, addirittura le gocce per gli occhi. Insomma, potete trovare proprio di tutto. Io vi consiglio di andare a dare un'occhiata a questo sito meraviglioso e sono anche molto efficienti, ti rispondono subito. Se hai qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda, loro ti risponderanno sempre. Appunto, sono stata felicissima di fare questa collaborazione. Vi lascio il link del loro sito qui sotto. E vi lascio il prezzo della barretta, ora lo vado a cercare sul sito. Quindi, se volete vedere anche il video dell'assaggio della barretta, lo farò tra pochissimo. Appena dopo questo vedrete il video dell'assaggio. Io vi mando un bacio, sono ancora strafelice di aver fatto questa collaborazione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questo sito, se avete mai fatto acquisti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.